segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te tornano dopo noi iniziamo con pierluigi bersani allora ci sono due livelli di che cosa sta succedendo uno è questo dal punto di vista culturale valoriale ne parleremo uno è quello pratico politico centrodestra arriva vince le elezioni con dei numeri fortissimi e in pochi giorni si mostra spaccato su tutto in più in un clima brutto ma guardiamo meglio come ha vinto questo centrodestra non ha vinto perché c'è un'ondata di destra nel paese questo devo tenerne conto ha vinto perché si è ammucchiato non è che sia unito come vediamo perché ha espresso una novità diciamo nella figura del leader proviamo anche lei e perché gli altri si sono divisi tant'è vero che se guardiamo i numeri per bene hanno gli stessi numeri di quando nel 2017 io dissi arriva la mucca nel corridoio adesso la mucca entrata nel salotto istituzionale ma nel paese ancora nel corridoio tensione bene questo comincerà via via a emergere come un dato di fondo non è una vera maggioranza del paese è una maggioranza politica più che vincente cioè hanno la sicurezza di chi ha stravinto ma non hanno dietro un paese secondo me hanno dietro un pezzo di paese e comincia a uno a uno questi nodi arrivano al pettine il primo che è arrivato al pettine è questo che loro non è che si sono uniti con un processo politico programmatico culturale si sono ammucchiati per approfittare di una legge elettorale e questo lasci risolti una serie di problemi che sono il sottotesto poi di queste beghe ministri non ministri perché le idee ma cosa le idee sono diverse anzi più di che cosa li divide in che clima si dividono se riassumiamo in due giorni foglio di berlusconi con gli insulti alla meloni lei che risponde una cosa pesantissima non sono ricattabile e pesantissima perché vuol dire che lui sta provando a ricattarla fanno un accordo che sembra escono con la foto sono d'accordo il patto lui andato a trovare lei lei lo ha sconfitto il giorno dopo berlusconi esce fuori dice tutto il contrario di tutto perché in qualche misura dice che è lei che è capitolata dai nomi dei ministri nomi dei ministri che dovrebbero essere portati dal dall'eventuale candidato scelto dal dal presidente della repubblica al presidente della repubblica e dice che sta riallacciando i rapporti con putin poi smentisce però esce una registrazione guarda caso che dice che è vero quasi che lui stesse dicendo alla meloni tu fai di tutto per raggrupparti nel patto atlantico ricordati che io con una frase ti posso buttare giù tutto il clima è brutto sì che ma diciamo adesso riassumendo tutti questi passaggi c'è chi frase la frase della meloni non sono ricattabile può voler dire due cose non ho scheletri nell'armadio e la seconda è non mi faccio dettare il compito una delle due io propendo per la seconda perché vedo un registro un fatto per ovviare a quelle non composizioni chiamiamoli divisioni che c'erano già in premessa di questa mucchiata lei deve far valere diciamo un elemento di comando per tagliar corto e questo crea problemi in particolare su berlusconi che può pensare dentro di sé psicologicamente ma tutti questi qui che sono qui li ho poi fatti io voglio dire guardate ragazzi senta leviamo un velo che spero non ci sia in questa trasmissione perché dietro le quinte è forte Berlusconi ha una certa età non l'ho stata a sentire alle volte non ci sta con la testa lei che lo conosce no io questo questo non penso ogni tanto che diciamo così che sia istintivo e che faccia emergere quel che pensa non è la prima volta anche quando avevo molti anni in meno no il fatto di di oggi sia una voce dal senso fuggita come gli è capitato tante volte è una verità sua intima e quel che colpisce non è tanto questo a meno a me non ha colpito tanto questo ha colpito il fatto che tutte queste belle cose siano uscite da una riunione del gruppo di forza italia e questo vuol dire che lì dentro sta succedendo qualcosa o l'hanno fatta uscire perché poi ci si perde a questo punto potrebbe essere pure lui che l'ha fatta uscire così dice mannaggia l'hanno fatta uscire chi lo sa e chi lo sa questo non voglio io sono solo una cosa io sono solo una cosa che la dissi tanto tempo fa insomma è proprio vera cioè come fa come può avere una successione il capo di un partito azienda come è stato lui se non per via dinastica quando si parlava della successione io disse ma dicevo io vi do un consiglio la figlia perché fuori da lì fuori da lì non si riesce non può quella quella forza politica avere un principio d'ordine diciamo che possa normalizzare regolare anche queste anche queste uscite però al di là di questo sta succedendo qualcosa lì dentro perché ma perché c'è un pezzo che mal sopporta il comandismo diciamo della meloni e non ne condivide probabilmente delle attitudini anche poco liberali diciamo così e un'altra parte probabilmente che invece pensa no ma noi questo accordo dobbiamo farlo c'è un governo da fare ora arrivano anche altri colleghi un importante rappresentante la maggioranza con cui lei si si confronterà ma in linea teorica è possibile in linea puramente teorica è possibile che non vada l'incarico alla meloni per qualche motivo ma io francamente non credo perché non credo che le diano un pre incarico può anche darsi ma se li danno un incarico i voti li trova se già visto con la russa non credo